Però personalmente in un certo senso è un sacrificio evidentemente e quindi questo è il motivo per cui dico anche spesso che il ruolo di sindaco è il ruolo più bello credo che si possa avere nell'ambito anche politico, servi la comunità ed è un sacrificio e anche un grandissimo onore che puoi fare pro tempore.